Benvenuti a questa seconda parte del nostro tutorial su Itavist in questa seconda parte vedremo come si inseriscono i contenuti nel documento che dobbiamo predisporre con Itavist e quindi immagini, suoni, testo e così via ci siamo logati nuovamente e apriamo il documento che avevamo preparato guida di Itavist bene, io qui ho inserito il titolo della sezione perché Itavist organizza i contenuti in capitoli, in sezioni, diciamo capitoli ogni capitolo avrà il suo titolo, avrà il suo stile e così via aggiungiamo subito un'altra sezione add a section, aggiungi una sezione dovremo dare un titolo a questa sezione inserire contenuti ultimidiali ecco, l'argomento sarà questo ok, farò anche da titolo inseriamo un sottotitolo per indicare ulteriori precisazioni e imparare a inserire immagini, video, testo, eccetera a questo punto indichiamo anche l'autore perché potrebbe essere un team e quindi potrebbe cambiare l'autore rispetto a quello della prima sezione inseriamo, in questo caso, il mio nome e poi organizziamo un design per il titolo del capitolo questo è il modello più semplice andiamo adesso a vedere per esempio potremmo inserire questo quindi una composizione di testo e immagine come copertina della sezione decidiamo di usarlo e carichiamo adesso un'immagine per esempio un'immagine come questa decidiamo di salvare e vediamo l'anteprima cliccando sul pulsante in alto a destra ecco l'anteprima questo come vedete è la copertina primo capitolo dita vista a scuola e questo è il secondo capitolo inserire contenuti multimediali bene, siamo soddisfatti quindi torniamo al nostro spazio di lavoro l'area di editing io ho preparato un testo l'ho copiato e lo incollerò con CTRL V o col pulsante destro ecco questo è il nostro testo lo suddividiamo in paragrafi premendo invio faremo un altro paragrafo qui bene, sono soddisfatto di questa suddivisione in paragrafi vediamo adesso di inserire un'immagine ecco, mentre il testo si inserisce direttamente nello spazio di lavoro per inserire un'immagine devo ricorrere o un qualsiasi altro elemento devo ricorrere a questo pulsante che mi dà la possibilità di inserire vari blocchi di contenuto e questo facilita molto il lavoro sapremo più infatti mi vengono proposte varie possibilità posso inserire un'immagine posso inserire un video una mappa di Google Map una GIF animata da Gifi uno slideshow che posso costruire una registrazione audio un testo evidenziato in una posizione che voglio un altro testo evidenziato in una casella di testo un testo sopra un'immagine del codice in questo caso JavaScript una tabella un grafico qui devo avere già predisposto con Google Drive con Google fogli di calcolo una tabella o un grafico e inserirò il link un'immagine con l'effetto di parallass che serve a dare più profondità dell'immagine un'immagine comparativa del tipo prima-dopo una registrazione audio prelevata da SoundCloud oppure appunto Twitter Instagram Flickr e così via anche da Slideshare posso caricare tramite link e incorporare nel mio documento una presentazione posso inserire dei pulsanti e posso utilizzare il codice di incorporamento per incorporare altri elementi da altri siti noi adesso ci limiteremo alla prima funzione l'immagine quindi clicco e comparirà l'immagine ho degli strumenti molto elementari e di formattazione dell'immagine posso cioè allinearla a destra e qui l'immagine sarà circondata dal testo oppure a sinistra oppure la posso allineare perfettamente col testo o espandere al massimo io userò questo posso anche editare ovviamente devo caricare l'immagine adesso io caricherò un'immagine qualsiasi per esempio dato che il testo è su Cartesi no su Wilford vabbè inseriamo l'immagine di Cartesio l'immagine verrà caricata quindi posso cliccare sul pulsante done fatto ecco l'immagine compare in questo modo andiamo a vedere prima salviamo sempre il salvataggio non è automatico andiamo a vedere l'anteprima questa è la mia anteprima vedete il testo l'immagine di Cartesio e così via diciamo che sono soddisfatto e ritorno sul mio documento questa la facciamo più piccina quali sono gli strumenti di formatazione del testo che possiedo bene per formatare il testo mi devo posizionare sul testo e evidenziarlo per esempio evidenziamo questa frase come vedete mi compare una menu contestuale e io posso compiere certe operazioni per esempio naturalmente per deselezionare clicco fuori seleziono naturalmente e uso il bold cioè il grassetto operazioni magari lo seleziono e lo faccio in corsivo posso per esempio decidere che questa frase va evidenziata per intero userò ecco qua questo header l'allineamento lo farò orizzontale quest'altra frase per esempio potrebbe essere una citazione e allora userò quote e così via supponiamo che adesso io voglia inserire un link ovviamente per esempio prendiamo Brunner psicologo pedagogista e cliccheremo sulla catenella il simbolo del link come vedete basta incollare qui l'url che mi sono procurato e a questo punto devo cliccare set l'ho dimenticato e a questo punto vedete diventato questa parola è diventata un link vediamo adesso come inserire per esempio un video in questa posizione posso scegliere la posizione ovviamente clicco sempre sulla pulsante con il segno più e vedete trascino qui il video nella posizione che voglio per esempio qui a questo punto dovrò editare il mio video diciamo che mi va bene la posizione posso prelevare da Vimeo da Youtube oppure caricare il video io adesso caricherò un video che è un video tutorial in inglese su Itavist ecco qua mi comparirà subito l'anteprima clicco su Done fatto e questo è il mio video vedete salviamo e controlliamo la nostra anteprima primo capitolo e questo è il secondo capitolo con il nostro video vediamo di inserire qualche altro elemento per imparare a utilizzarli oltre che le immagini e i video abbiamo per esempio ecco pull quote quindi una citazione posta in evidenza perché è estratta dal testo trascino metto nella posizione desiderata e adesso la dovrò editare io mi limiterò adesso a copiare questa frase e incollarla qui posso editarla agendo vedete sulla grandezza del font facciamo più piccolo ecco qua fatto posso anche decidere di metterla per esempio a sinistra di muoverla qui potrò scrivere altro testo e questa parte del testo verrà evidenziata potremo anche salvare e vedere ma aspettiamo un istante perché vogliamo inserire altri elementi per esempio una registrazione audio bene andiamo qui cerchiamo ecco qua la registrazione audio e decidiamo dove inserirla scorro con la rotellina la voglio posizionare per esempio qui è andata un po' più su di quanto io avrei voluto allora la sposto qui non ci vuole andare d'accordo anche qui posso decidere come posizionarlo la metteremo a sinistra editiamo e qui devo caricare il mio file audio carico questo sperando che non ci metta troppo tempo concluso di caricare clicco su done fatto e adesso posso salvare e vedere l'anteprima e cioè il risultato di tutto il lavoro che ho fatto su questo secondo capitolo quindi qui ho il primo capitolo ecco qua il mio secondo capitolo inizia qui inserire i contenuti multimediali abbiamo l'immagine e abbiamo la nostra registrazione bene funziona il video abbiamo già sperimentato che funziona questa è la nostra pull quote quindi direi che è tutto a posto vediamo adesso ancora altri blocchi di contenuto non possiamo provarli tutti perché il video tutorial durerebbe troppo tempo io sono già abbastanza prolisso proviamo per esempio a inserire una presentazione slash share andrò a posizionarla per esempio qui bene decidiamo di lasciare l'allineamento al centro editiamo qui editare significa semplicemente inserire il link e cliccare su done fatto ecco ho inserito una presentazione su applicazioni web per la content curation ancora di contenuti vediamo funziona a questo punto inseriamo ancora un altro elemento ho realizzato un'altra sezione per comodità anche per sperimentare più sezioni più capitoli clicchiamo e inseriamo per esempio uno slide show lo posizioniamo proprio all'inizio della nostra sezione e vediamo abbiamo sempre le solite opzioni di allineamento vediamo come editarlo in pratica quello che dobbiamo fare è inserire le immagini che vogliamo che scorrano perciò caricherò quattro immagini carichiamo i pinguini la medusa il crisantemo il deserto e hanno inserito una a una allora sarà meglio chiudere una ecco qua ho inserito quattro immagini clicco su done e vediamo il risultato come vedete adesso avrò uno slide show in prima posizione nel mio nuovo capitolo andiamo adesso ad aggiungere un grafico e terminiamo altrimenti non possiamo provare come dicevo tutti gli elementi ecco inseriamo questo grafico lo posizioniamo qui sotto qui posso scrivere vedete anche una didascalia il grafico è stato inserito qui posso scrivere una didascalia il titolo del grafico e posso editarlo in questo caso vedete io dovrò inserire qui il documento google lo spritch cioè esattamente il foglio di calcolo che corrisponde al mio grafico che verrà caricato e incorporato qui con questi effetti posso anche dare dei nomi posso cambiare i colori il risultato come vedete è questo naturalmente devo prima preparare il mio foglio di calcolo il mio grafico insomma i miei dati sul foglio di calcolo di google drive e copiare il link in questa posizione diciamo che è fatto a questo punto possiamo guardare l'anteprima cliccando su preview io ho già fatto per risparmiare tempo ecco il nostro capitolo vedete lo slideshow in questo caso compare la didascalia che ho inserito e questo è il nostro grafico bene a questo punto non mi resterà che pubblicare questo contenuto quindi andrò su publish e come vedete posso configurare le mie opzioni di pubblicazione posso editare la url quindi guidata vi potrei cambiare questo titolo ma me sta benissimo così posso promuovere il mio documento su twitter e facebook cliccando su promote qui scrivo il mio messaggio su facebook su twitter posso anche caricare un'immagine e condividere adesso io non farò niente di tutto questo posso poi vendere il mio progetto o il mio documento in questo caso non lo posso fare perché non ho un account superiore con l'account free non si può vendere i contenuti che sono prodotti posso anche impostare delle password nel caso voglia proteggere il mio documento concluso cliccherò su publish e il mio progetto è in corso di pubblicazione qui mi viene dato il link del progetto e questa è la mia home page quindi clicchiamo sul link e apparirà quanto abbiamo visto in anteprima ecco qua abbiamo messo un capolettera e così via terzo capitolo quindi clicco su done ho concluso posso tornare cliccando in alto a sinistra sul logo nella mia pagina principale vediamo che ho delle operazioni di editing posso cioè riaprire il documento per editarlo i dettagli del mio progetto posso duplicarlo cioè farne una coppia per modificarlo potrei esportarlo ma è una funzione che richiede un po' di tempo e posso modificare i progetti i dettagli del mio progetto cioè rieditarlo bene direi che è tutto ETAVIST è uno strumento quindi molto flessibile molto semplice da utilizzare è molto potente e versatile nel senso che possiamo sfruttare a pieno tutte le risorse del web per quello che è l'argomento il tema il problema che intendiamo trattare nel nostro documento e questo nostro documento può riguardare qualsiasi tipo di attività esperienza che possiamo avere o portare avanti nella didattica vi ringrazio per la pazienza vi saluto arrivederci buona giornata